Diciamo che non è portato signora, più che altro è strascinato, strascinato, attenti alle onde, disaraccionato, la guardate, appena si libera un posto c'è qualcuno che te lo occupa, rivediamo. Col surf fino in riva, un'impresa da ricordare, sì, è meglio ricordarsi di slegare il cordino però, rivediamo. Rampe maledette! Che bello, fotografare il mare mosso. Si sa che la foto è venuta più mosso del mare. Tutti a piedi, ma non sulle bici. Ed ecco il motivo. Prova d'equilibrio! Riprova! Attenti al ladro! Attenuto al vetro! Il tentativo di furtio è andato in frantoni! E il mariachi in un'esibizione toccante! Eh sì, ha toccato il fondo! Bisogna sempre andare in giro a testa alta! Oh, a volte può piare abbassata! Una camminata sui carboni ardenti! No, non sa che questo non lo farà più! È rimasto scontato! Allora, grazie ai nostri amici fotografi! Il matrimonio! Fotografa bagnata, sposa fortunata! Forse non viena proprio così! Forse non viena proprio così! Porco acquatico! Tra i volidi! Attenta! È pericoloso! È pericoloso! Amico, appunto! Te l'ho detto! Al ballo degli spoti! Il casca è Sullo palpotografo! Alla premiazione L'indomito reporter! Rivediamo la caduta! Ecco un grande battitore! È un piccolo sbattitore! Guardate! Ce la fa! Ce la fa! Ce la fa! Non ce la fa! Mini pilota su mini carro! Vieni! Maxi incidente! Scivoli! Dai, vieni giù che è facile! Dai, dai, dai! Facilissimo! È facilissimo! Ti dico che è facile! Facile riportarsi! Di scesona in spiaggia! Una specie di moto sincronizzato! Ma sulla salla! Ecco, il bimbo prende il suo attestato e se ne torna a posto! Brava! Mai sedersi sugli allori! Il dondolo è sempre un'ottima minna, no? E la caduta è sempre un'ottima minna! E la caduta è sempre un'ottima minna! E la caduta è sempre un'ottima minna! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E anche stavolta. Soccorso stradale. Oh, finalmente uno bravo. Ho parlato troppo presto. Mangia! Ci trasferiamo in un negozio in Russia, dove c'è un cliente indeciso su quale la via suscita giusta. Direi che l'ha sbagliata. Dalle skate, prove indorne le cheerleaders. Sono anni che ci tenta. E' proprio una testona. E' un replay. Per tenersi in forma, due salti sul tappeto. rotto. Rotto. Vamo a te in spagna. Dove sul cammello ci sono i re magi? E c'è anche il re. E c'è anche il re. Re play. E c'è anche il re. Proprio lì, ecco come trasformare uno scurtino in una scurtina. Tandem con oversize. Oh eh. E non è una disciplina da prendere alla leggera. Rivegliamo. Riescese pericolose. E siccome le disgrazie non vengono mai sole. Allenamento casalingo con i rulli. Facile eh. Lo faccio anch'io. Basta mettersi su. Ecco così. Bene. Pronto? Ecco adesso però mette il piede nel piedale. Bravo. Così. Avanti. Facciamo domanda. La sposa in carrozza. Rivediamo. Concorso di attacchi. Nei boschi ci sono gli alberi. Re play. Cavaglia alla prova di forza. Pronti. Partenza. Via. Via. Sì, sì, bravi. Via, via, via. E a fine giornata, dopo tanto lavoro, si torna a casa. Ma che bravo, un parcheggio. Perfetto. Salto dal trampolino. E' saltato più il trampolino che lui. Una nuova specialità. Buffo, buffo. Equilibrio sul salvagente. Ce la fa, ce la fa. Ce la fa. Ma sì, che ce la fa. Ce la fa, ribaldarsi. Guardate come ci si siede. Mi correndo. Come ci si dovrebbe sedere? Rivediamola. Uno sport veramente duro. Molto. Aia. Sicuramente è più duro il bordo. Di corsa. Sul serv. Adesso di corsa da un buon chiropratico. Che boh. Truffo, sarà con avvitamento? Direi che è un truffo svitato. Jane! Forza, saltare! Prima bisogna allenarsi. Attenzione a questo. Prendere il ritmo. E riposare un po'. Si sta meglio seduti comodamente. Per terra. Prova di equilibrio. Prendere il ritmo. Prendere il ritmo. Prendere il ritmo. Torniamo un po' più di due corde. Proviamo con due corde. No. Passiamo due corde. Prima bisogna allenarsi. E riposare un po' più di due corde. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti